manuela arcuri il topless sul lettino ad acqua seduce ancora i fan aveva sedotto l'italia con un calendario super hot ora che mamma seduce il web con le sue curve sempre da urlo manuela arcuri aveva detto che ripensandoci oggi da mamma i calendari non li farebbe più in compenso però oggi da mamma svela ancora una volta le sue curve mozzafiato che fanno impazzire i fan nuda e il web impazzisce già perché manuela arcuri ha postato diverse immagini di lei sdraiata su un lettino a diacqua in un centro estetico ma quello che risalta di più sono le sue curve lato a e lato b in bellissima mostra per la gioia dei fan sempre più sexy manuela arcuri che ha da poco compiuto 41 anni torna dunque a mostrarsi in tutta la sua che i fan apprezzano come quando posava per i calendari più anche se oggi da mamma è tutta un'altra vita